Allora, che cosa hai fatto durante il weekend? Eh, ho fatto bungee jumping con gli amici. Wow, bello, beato a te. Eh. Va bene, ciao ciao. Ciao ciao. Antonio, mentre ero in bagno ho avuto un'idea eccezionale. Sabato, altro che tiki tacca, gli facciamo. Bardaschi? Aia, aia, tutto spacchi, tutto spacchi. Ancora col possesso di palla, Braschi? Nostra amica perdendo tempo con la sua squadretta di calcio, vero, Braschi? No, 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 guardi, io stavo... E poi Braschi, ma lo sanno tutti che oggi c'è YouCoach. La nuova applicazione online con oltre 1500 esercitazioni già pronte e ispirata alle più grandi squadre di calcio. Si aggiorni ragioniere, si aggiorni caro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.